Ciao e benvenuti e ritrovati sul mio canale L'Angolo di Claudia, io sono Claudia e facciamo questo interattivo oggi e cioè vediamo qual è il messaggio per te. Quindi lasciamo ampio spazio alle carte, ai tarocchi e vediamo che cosa ti vogliono dire. Allora qui ci sono tre carte che contrastingono le tre varianti. La prima variante è contrassegnata da questa ballerina che si vede dall'alto e attorno ci sono come tante mini ballerine, come delle repliche della ballerina centrale. Poi abbiamo come seconda variante questa donna candela che ha tutta questa parte in ombra però il viso è nella luce. Ok? E questa è la seconda variante. Come terza variante abbiamo invece l'uomo fuoco e la donna ghiaccio, una coppia innamorata. Vedete queste due figure molto diverse tra di loro che però si guardano con sguardi innamorati. Ok? Quindi mi raccomando fate la vostra scelta, cercate di centrarvi e fate la vostra scelta assolutamente a livello intuitivo. Ok? Vi lascio qualche secondo. Bene, allora possiamo partire con la prima variante. Eccoci prima variante, abbiamo stasera abbiamo, ci fa compagnia Andromaca. Allora vediamo, prima variante vediamo per te qual è il messaggio. Abbiamo un dieci di bastoni, l'imperatrice e la torre. Prendiamo subito un'altra carta per vedere che cosa c'è dopo la torre. Il cavaliere di denari. Allora interessante questa stesa. Allora stai faticando eh tanto per trovare il tuo posto nel mondo mi verrebbe da dire che però troverai troverai perché qui comunque dopo questo dieci di bastoni c'è l'imperatrice quindi c'è questa figura no? Che è nel pieno potere delle delle sue potenzialità del proprio valore e direi anche c'è molta energia creativa qui e mi viene da dire che ci sarà in maniera inaspettata qualcuno che ti potrà dare anche una mano in questo senso. Ok? Questo se vogliamo diciamo parlare a livello di realizzazione personale anche a livello di energie e se vogliamo anche interpretarla come dal punto di vista sentimentale e qui c'è è possibile che ci sia proprio in maniera inaspettata l'incontro con questo cavaliere di denari quindi una figura che porterà cose molto positive ma la tirerai nel momento in cui tu sarai e riuscirai ad avere questa energia cioè l'energia passerai da un dieci di bastoni all'energia dell'imperatrice. Nel momento in cui tu entrerai in questa energia inaspettatamente all'improvviso arriverà questo cavaliere di denari a darti a darti una mano a darti energia a darti concretezza e per alcuni ovviamente per le persone che sono single magari è proprio anche una persona con cui instaurare una relazione. Ok? Andiamo adesso ad approfondire queste carte quindi perché c'è questo dieci di denari un re di bastoni allora qui si vede proprio che tu stai mettendo veramente tutte le tue energie tutta la tua determinazione per arrivare proprio a una tua realizzazione personale per arrivare a essere veramente te stesso o te stessa ok? Il dieci di bastoni è una figura che scusate il re di bastoni è una figura che mette passione, mette determinazione nelle cose però insomma c'è bisogno appunto di fare questo passaggio no? dall'energia di un re di bastoni a quella dell'imperatrice però ecco qui io vedo che c'è molta c'è molta volontà ok? Anche se stai facendo un po' fatica però c'è molta volontà di arrivare dove vuoi ok? A livello sentimentale potremmo anche dire che visto che abbiamo questo cavaliere di denari potrebbe anche dire che tu nel momento in cui arriverai a questa energia potrai anche dare le spalle a una figura quindi per quelli che magari sono in una fra virgolette crisi ok? sentimentale è possibile che diano le spalle a questo re di bastoni e nel momento in cui lo faranno all'improvviso arrivi questo cavaliere di denari vediamo adesso un'altra carta per invece l'imperatrice il tre di coppe infatti nel momento in cui tu arriverai arriverai, approderai a quello che è la tua, la tua vera essenza il tuo pieno potere personale a livello proprio realizzativo, creativo proprio a avere, ad esprimere il tuo vero valore ovviamente c'è la gioia, c'è la contentezza c'è quindi proprio una gioia mi verrebbe da dire non dico quasi incontenibile ma insomma ci sarà veramente tanta tanta contentezza da parte tua ok? vediamo adesso un messaggio ulteriore per questa torre il sette di coppe allora questo sette di coppe è un po' diciamo la carta delle scelte la carta anche di scelte che potrebbero essere illusorie è come che nel momento in cui diventi padrona padrone delle tue capacità, del tuo valore improvvisamente farai crollare tutte quelle tutti quegli scenari che sono illusori avrai questa capacità di far crollare tutte le illusioni quindi questa è una grande conquista che farai assolutamente vediamo un ulteriore messaggio per il cavaliere di denari abbiamo la luna allora questo cavaliere di denari è una persona che porterà alla luce quelli che sono anche un po' i tuoi lati più nascosti e fra l'altro è una persona che avrà secondo me una una sensibilità e una percezione del mondo e delle cose che ti piacerà molto è una persona che probabilmente avrà un livello di affinità di livello animico proprio molto simile al tuo quindi è molto bella questa questa combinazione questo binomio sotto il cavaliere di denari che è una persona comunque molto concreta molto stabile molto affidabile ma che ha anche una parte intuitiva una parte profonda a livello proprio anche di sensibilità e quindi questa è diciamo una componente che ti piacerà moltissimo quindi prima variante io direi che sei sulla strada giusta che nel momento in cui appunto tu arriverai a e sarà non fra tanto ovviamente non passerà tanto tempo che arriverai a entrare in questa energia dell'imperatrice che vale sia per uomini che per donne che sia per entrare in questa energia si sbloccheranno improvvisamente tante cose ovviamente si può sbloccare anche per i single quindi un incontro importante crolleranno tutte quelle che sono le illusioni finalmente e quindi insomma c'è veramente una piena una pienezza in arrivo per te c'è dell'abbondanza ok in tutti i sensi ok prima variante io spero oh scusate ho visto adesso che che non si vedeva bene non si vedevano bene queste ultime due scusate il cavaliere di denari e la luna sotto ok prima variante io spero che questa lettura ti sia piaciuta questo messaggio ti sia piaciuto ti possa essere utile e io passo ti saluto passo alla seconda variante ciao eccoci seconda variante allora tu hai scelto questa carta che è questa donna candela che ha la maggior parte del corpo in ombra e poi diciamo dalle spalle in su invece il volto è tutto in luce vediamo se questo messaggio di una parte tua che magari è ancora in ombra è una parte che invece è già illuminata vediamo se traspare anche dai tarocchi allora abbiamo il 10 di coppe il 7 di denari e la forza allora questo è un messaggio molto bello nel senso che il messaggio per te è che tu conquisterai una serenità tanto attesa mi verrebbe da dire con questa forza no e quindi sarai ripagato ripagata di una serenità che cerchi da tempo la cerchi con tanta forza mi viene da dire no e quindi c'è questo proprio rifiorire mi viene da dire dal punto di vista proprio anche sentimentale ma io direi più in generale poi adesso andiamo ad approfondire le carte c'è proprio una tua nuova serenità che ti sei proprio conquistata ok e questo 7 di denari lo conferma cioè finalmente tu raccoglierai i frutti di questa tua conquista verso una tua serenità ok andiamo a vedere adesso questo 10 di coppe vediamo un altro messaggio vediamo cosa viene fuori abbiamo un re di denari allora qui c'è una persona qui c'è una serenità e per i single ovviamente qui abbiamo proprio una un incontro importante che ti porta proprio a una nuova felicità a una nuova serenità a avere veramente un un riscontro finalmente in amore positivo per i single e è comunque per tutti in generale una felicità che viene rafforzata con questo re di denari ok quindi se vogliamo allargare il messaggio per tutti questa è una serenità che viene consolidata è una serenità che durerà nel tempo ok quindi non è un qualcosa di effimero ma sarà qualcosa di duraturo di solido di stabile insomma qualcosa di veramente importante vediamo adesso un altro messaggio per il sette di denari abbiamo l'otto di bastoni allora qui nel momento in cui ovviamente raggiungerai questa tua serenità questa piena serenità questa nuova serenità in maniera molto diciamo veloce tu avrai proprio si sbloccheranno tante cose mi viene da dire nella tua vita e vedrai veramente riceverai veramente tanta abbondanza mi viene da dire un po' proprio in generale proprio attirerai proprio a livello diciamo quasi magnetico un'abbondanza in tutto questo otto di bastoni sotto al sette di denari dà proprio questo messaggio ok quindi è proprio tutto collegato ok nel momento in cui tu raggiungerai e sarà ovviamente a breve questa oppure raggiungerai o come posso dire consoliderai questa tua nuova serenità e in automatico conseguentemente tu comincerai a ricevere abbondanza sotto vari punti di vista vediamo adesso un ulteriore messaggio per la forza abbiamo il 6 di coppe allora questo messaggio questa carta mi arriva un po' questa cosa allora non trattenere qualcosa non essere è possibile che tu abbia ancora delle malinconie riguardo a un un passato ok però quello che ti arriverà sarà una come ti dicevo una nuova felicità una nuova serenità che ti sei conquistata e quindi queste malinconie ci possono stare per l'amore di dio però devi cercare un po' di rilasciarle ok come se tu nonostante questa nuova ondata di felicità di serenità di abbondanza volessi ancora un po' trattenere qualcosa del passato ed è l'unica parte che mi viene da dire che rimane in ombra ok di questa donna candela ok però per il resto sono carte molto belle qui c'è veramente in arrivo tanta tanta serenità tanta gioia tanta abbondanza ok seconda variante allora io spero che questo messaggio ti sia piaciuto ti sia stato utile e per il momento ti ringrazio passo alla terza variante ciao ed ecco qui eccoci alla terza variante allora hai scelto la carta degli innamorati questa è una carta dove due persone completamente opposte l'uomo diciamo l'uomo fuoco e la donna ghiaccio si incontrano e si innamorano ok allora vediamo vediamo se anche i tarocchi danno dei messaggi danno dei messaggi riguardo a questa carta oppure danno un messaggio diverso allora abbiamo il 5 di coppe il 4 di spade e il 3 di spade allora terza variante il messaggio qui è abbastanza netto e sei devi diciamo il consiglio che ti danno le carte è di rilasciare un grande dispiacere proprio di lasciarlo andare perché sei ancora stai stai rilasciando stai cominciando a farlo però hai ancora delle energie cupe diciamo di chiusura ok relative a una ferita a una delusione che tu hai avuto ok quindi questo è un messaggio molto molto netto quindi se senti che non è la tua variante non forzare qui c'è proprio una energia ancora di di amaro in bocca di ferita insomma di delusione andiamo ad approfondire adesso queste tre carte allora vediamo un altro messaggio sotto a questo 5 di coppe la temperanza fai fatica fai fatica a rilasciare un po' questo è come che tu sia è una sorta come di di abbattimento che hai e la tarda della temperanza che è sotto mi fa capire che insomma ci metti è già come posso dire è già un po' ecco è già un po' di tempo che sei così ok che hai questo tipo di energia è è come che tu faccia un po' fatica a rilasciare questa energia mi viene da dire ok vediamo adesso sotto il 4 di spade un altro messaggio il folle il folle ce la farai eh ce la fai ce la fai ce la fai arriverà un momento in cui tu riuscirai perché è caduta venuto il folle è venuto proprio sotto la carta del 4 di spade no quindi comincerai a rilasciare queste energie negative che comunque ti ti incupiscono no ti bloccano e comincerai a comincerai ad avere l'energia del folle cioè all'improvviso mi viene da dire quasi ti butterai no ti aprirai un po' alla vita e mi viene da dire in questo caso fai anche se c'è un po' così di incoscienza ovviamente nei limiti della nei limiti però in questo caso è un bene perché sei veramente parti da un'energia molto abbattuta attenzione perché non vorrei che alcuni di voi invece mi viene anche mi arriva anche questo messaggio passassero proprio a livello di energie da momenti molto molto giù a momenti molto su ok che ci fosse proprio anche questa alta allenanza di energie ok andiamo a vedere adesso sotto il 3 di spade un'altra carta il papa allora questo è stato un dispiacere grande è stato un dispiacere riguardo a una situazione adesso potrebbe essere stata non so per alcuni un matrimonio comunque è stata una 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 ferita un dispiacere riguardo a una situazione importante ok quindi ci sta anche che tu faccia fatica a rilasciare certe energie però ecco in terza variante questo è ovviamente ripeto è un messaggio un po' particolare questo quindi probabilmente è per pochi e piano piano riuscirete a rilasciare mi viene da dire state un po' attenti avete un po' è come che abbiate un po' delle variazioni umorali no cioè passate da momenti molto giù a momenti molto su siete ancora in una fase di di altalenanza cioè non siete non siete in una fase di equilibrio a livello energetico ed emotivo ok state attraversando un momento un po' in questo senso un po' un po' altalenante quindi questo è un po' il messaggio per te spero che ti sia stato utile questo messaggio anche se non ha una diciamo un risultato finale sei ancora dentro ecco sei un po' ancora dentro questo vortice un po' negativo ok mi viene da dire probabilmente la carta che tu hai scelto è una carta di speranza una carta di desiderio una carta di voglia di amare e di essere amati mi viene da dire qua è un messaggio abbastanza forte che mi arriva e quindi io spero che se si risuona ovviamente spero che comunque questa lettura ti sia piaciuta e io ti abbraccio e ci vediamo aspetta che te le alzo perché magari non le hai viste bene ok e ci vediamo al prossimo video ciao